Anche la polizia somministra i vaccini, aperto il centro vaccinale alla caserma di via Salaravecchia a Pescara. A volte combinare delle sanzioni è necessario, ma sicuramente non è un compito che gratifica l'operatore di polizia. Essere qui al servizio dei nostri anziani, somministrando magari una dose di vaccino che forse sarebbe stata somministrata con qualche mese o qualche settimana di ritardo, noi sappiamo che il tempo gioca a nostro sfavore, quindi aprire queste linee di vaccinazione, farlo presto e farlo qui per noi è importantissimo, siamo molto orgogliosi, quindi è il regalo che la Polizia di Stato e quella di Pescara in particolare fa a tutta la città e alla provincia. Per i prossimi tre mesi, per tre mattini a settimana, qui saranno vaccinati gli ultimi over 80 che non hanno ancora ricevuto la dose e i soggetti fragili. Due le linee vaccinali a cui se ne potrebbe aggiungere una terza in futuro. Oggi per questo tipo di popolazione faremo il vaccino Pfizer, ovviamente anche in base alle circolari che usciranno eventuali nuovi vaccini, noi siamo a disposizione dell'ASL, quindi seguiremo quelle che sono le indicazioni che ci arrivano dall'ASL, che le recepisce poi dal Ministero. Intanto da ieri è iniziata la vaccinazione anche degli ultrasettantenni, che saranno contattati dal sistema Poste e riceveranno le indicazioni per poter prenotare la propria inoculazione. Questa è veramente una sinergia importante. Poi per quanto riguarda poco o molto, l'importante è vaccinare, come dicevo prima, perché è il più grande strumento di mitigazione della diffusione del virus, il vaccino.